La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati, avverto inoltre come specificato anche nelle convocazioni a luce di quanto stabilito l'aggiunta per il regolamento della riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazione e risposta immediata. Ricordo altresì che secondo l'articolo 135 tercoma 4 primo periodo del regolamento il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Dopo la risposta del governo l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti. Quindi la prima interrogazione è a prima firma De Carlo. Prego. Sì, grazie Presidente. In occasione delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre è stato redatto un protocollo sanitario al fine di garantire ai cittadini la possibilità di esercitare il diritto di voto in sicurezza. Tuttavia, presso alcune sezioni del Comune di Trieste è stata garantita la permanenza all'interno delle sezioni di rappresentativista sprovvisti di DPI idoneamente indossati. In particolare, presso la sezione numero 151 dell'Istituto Luigi Mauro, ne è stata garantita la permanenza durante tutte le operazioni di preparazione della sezione di voto e di scrutinio, grazie a un certificato medico datato 19 aprile 2021 rilasciato da un medico privato. L'interrogazione è quindi finalizzata a conoscere in particolare quali ulteriori iniziative il Governo intende adottare per garantire un'adeguata cornici di sicurezza sotto profilo sanitario per quanto riguarda la prossima donata elettorale e il ballottaggio che si terrà tra pochi giorni. Grazie Presidente. Onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti segnalo un episodio avvenuto lo scorso 4 ottobre Trieste in occasione del primo turno delle elezioni amministrative. In particolare, presso l'Istituto Scolastico Luigi Mauro, il Presidente della sezione 151 ha consentito a un delegato della lista del Movimento 3V, dopo aver consultato l'Ufficio elettorale del Comune, di entrare all'interno della scuola anche se sprovvisto di idoni dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Lo stesso risultava munito di una certificazione medica di esenzione rilasciata in data 19 aprile 2021. Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il seggio messo al corrente della situazione da parte del Presidente della sezione elettorale ha interlocuito col predetto delegato, il quale, nuovamente ragguagliato sulla necessità del rispetto del protocollo sanitario previsto per la consultazione elettorale, ha assicurato che all'interno della scuola e della sezione elettorale avrebbe avuto cura di mantenere il distanziamento sociale e di indossare la mascherina ogni qualvolta il distanziamento medeso e non potesse essere garantito in ragione dell'afflusso degli elettori. Su un piano più generale va ricordato che l'organizzazione delle consultazioni elettorali in frio di Venezia Giulia è demandata all'autonomia della Regione, che per propria legge disciplina tutta la materia del procedimento per le elezioni comunali nel territorio regionale. In tal senso le elezioni dei sindici dei consigli comunali dell'anno 2021 sono state convocate con decreto del 4 agosto 2021 dall'assessore regionale di autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e migrazione. Sul piano normativo si evidenzi inoltre che in base a quanto previsto all'articolo 4,2 primo periodo del decreto legge 17 agosto 2021 numero 117 in corso di conversione è stato adottato il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Salute, con il quale sono state impartite le necessarie indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezioni da Covid da dover adottare in occasione delle consultazioni elettorali previste nel secondo semestre dell'anno 2021. In particolare il protocollo contiene specifiche prescrizioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, sia per allestimento dei seggi, sia per lo svolgimento delle operazioni di voto. Al fine di garantire la più ampia divulgazione del contenuto del protocollo in questione è stata adottata dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno la circolare 63 del 25 agosto 2021, con la quale si è richiesto ai prefetti di sensibilizzare i sindaci ad osservare le pretette misure di prevenzione e ad informare gli elettori e componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio. Nello specifico al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio viene previsto testualmente nel protocollo che per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avendo diritto all'accesso al seggio, ad esempio i rappresentanti di lista, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. A riguardo competa il Presidente del seggio sia demandato il compito di verificare di volta in volta rispetto alle prescrizioni contenute nel protocollo nonché la valutazione di ogni situazione peculiare di intesa se opportuno con le competenti autorità sanitarie locali. Infatti il Presidente è normativamente dotato di potere decisionale su eventuali difficoltà e incidenti sollevati nel corso dell'operazione elettorale nonché su reclami, anche orali e proteste. Al Presidente inoltre sono riconosciuti anche poteri di polizia volte a garantire il regolare svolgimento delle competenze attribuite all'ufficio elettorale di sezione. In conclusione, da quanto esposto, si vince che sono state adottate e fornite tutte le indicazioni necessarie, ovviamente valevoli anche per il prossimo turno di ballottaggio, a garantire lo svolgimento delle elezioni in un quadro di sicurezza sanitaria. Il collega De Carlo, una replica. Sì, grazie Presidente. Io personalmente non mi ritengo soddisfatta della risposta per il semplice fatto che sono state elencate correttamente delle indicazioni ben note. Il punto in questa circostanza è un altro. Stiamo parlando comunque della sicurezza dei cittadini, della salute dei cittadini. I cittadini che hanno, insomma, cittadini, istituzioni per carità, hanno fatto uno sforzo enorme soprattutto nell'ultimo anno affinché si potesse in un modo o nell'altro cercare di contrastare la pandemia. Il problema in questa circostanza è che al di là dell'impegno delle forze d'ordine che io, insomma, costantemente ringrazio e si è trovato il modo per aggirare quelle che effettivamente sono delle norme che, tra l'altro, sono state, come ben detto, dal Governo anche trasmesse adeguatamente alle sezioni e ai seggi. Il problema in questa circostanza è un altro. Io temo che possa ripetersi per il semplice fatto che, appunto, la questione è stata poi demandata alla, diciamo, decisione ultima del Presidente che in questa occasione non ha assunto una decisione in rispetto alle notevi vigenti. Quindi si trattasse di altre questioni e non questioni sanitarie, potremmo anche dire, vabbè, possiamo affrontare questo tema in un'altra occasione. Non è questo il caso. A prescindere da questo ci tengo comunque a evidenziare che, soprattutto in questo periodo e in questo ultimo anno, è stato evidenziato come sia necessario spingere sulla parte digitale, quindi auspico che il Governo possa fare il possibile affinché venga avviata nel più breve tempo possibile anche la simulazione, positivamente la sperimentazione per procedere nella direzione del voto elettronico, che comunque una battaglia che il momento 5 Stelle ha sempre portato avanti. Grazie. Grazie a lei. Ora, se i colleghi sono d'accordo, anticipiamo la interrogazione della collega Moretto che ha chiesto questo favore, quindi se non ci sono obiezioni. Prego, collega Moretto. Grazie Presidente. Darei per letta, rimettendomi al testo depositato. Ha per letto il testo, quindi diamo un attimo il tempo al sottosegretario Molteni di trovare la risposta. Prego. Grazie Presidente. Allora, gli onorevoli interroganti segnalano possibili disservizi rispetto all'ufficio anagrafe del Comune di Teglio Veneto a seguito dell'entrata in vigore, dell'entrata in obbligatorietà della certificazione Verdi per i dipendenti pubblici, prevista per il 15 ottobre prossimo. Il Prefetto di Venezia ha in proposito riferito la scorsa settimana il Sindaco di quel Comune ha prospettato l'impossibilità di assicurare i servizi demografici e in particolare il servizio essenziale di Stato civile nella giornata del lunedì a partire dal 15 ottobre prossimo venturo, in quanto le dipendenti addette al servizio hanno fatto presente che in quel giorno della settimana non disporranno della certificazione necessaria per svolgere la prestazione lavorativa in quanto non disposte a sottoporsi al test Covid-19 nel fine settimana. Il Prefetto ha suggerito al Sindaco di chiedere la collaborazione degli ufficiali di Stato civile e dei Comuni limitrofi per supportarlo nella redazione degli atti di Stato civile più urgenti, fermarestando la possibilità di ricorrere a una vera e propria delega delle funzioni di Stato civile a personale dipendente da un altro Comune, in conformità del parere numero 5172 del 25 novembre 2010 del Consiglio di Stato, inoltrato col circolare del Ministero dell'Interno numero 34 del 29 novembre 2010, che ha ritenuto tale delega risolutiva allorché sussistono carenze d'organico in piccole realtà locali. Signale inoltre che la misura proposta dalla Prefettura è conforme a quanto indicato nelle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data di ieri, in ordine alla condotta dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della certificazione verde anti-Covid. In merito al Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, va ricordato che lo stesso ha la finalità di concorre ad assicurare ai Comuni, alle province e alla città metropolitane le risorse necessarie per l'esplottamento delle funzioni proprio nell'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19. La dotazione del Fondo è stata incrementata per l'anno 2020 dall'articolo 39 del Decreto-Legge del 4 agosto 2020 numero 104 e rifinanziata per l'anno 2001 dalla legge 178 del 2020. I criteri e le modalità di riparto del Fondo fra gli enti di ciascun comparto sono valutati sulla base degli effetti dell'emergenza Covid-19, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, dal tavolo tecnico previsto dal comma 2 del medesimo articolo 106. Tale tavolo tecnico esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'esplettamento delle funzioni degli enti locali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa, avvolendosi del supporto tecnico della SOSE, soluzioni per il sistema economico SPA. Inoltre la normativa prevede che il ragioniere generale dello Stato possa attivare anche con l'ausilio dei servizi ispettivi di finanza pubblica monitoraggio presso i comuni, province e città metropolitane da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite al tavolo tecnico per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio per la quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane. Le disposizioni sopra richiamate attribuiscono al Ministero dell'Interno il compito di adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti di individuazione dei criteri delle modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto, degli acconti e dei saldi da corrispondere a valere sulle risorse del fondo. Tutti i decreti interministeriali di riparto del fondo, ad oggi adottati da 16 luglio 2020 al 30 luglio 2021, riflettono le valutazioni e l'attività di monitoraggio del citato tavolo tecnico. Tutto ciò permesso, appare che le norme che regolano la distribuzione del fondo in questione non consentono al Ministero dell'Interno di autorizzare l'imputazione sui relativi accreditamenti di particolari tipologie di spese, ancorché connesse all'emergenza epidemiologica, quali quelle proposte dall'interrogante. Considerato altresì che a fronte di spese emergenti causate dal Covid-19, il legislatore è spesso intervenuto con provvedimenti normativi ad hoc che hanno stanziato risorse aggiuntive con specifica destinazione. Inoltre è preciso che la finalità dei contributi erogati sul fondo di cui trattasi è quella fondamentale della tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali. Resta salva l'attività di monitoraggio degli effetti dell'emergenza sanitaria, con riferimento alla tenuta dell'entrata degli enti locali rispetto a fare bisogni di spesa, che anche nel caso della vicenda rappresentata dall'interrogante potrà essere garantita dal predetto tavolo tecnico o eventualmente dall'attività ispettiva sopra richiamata realizzata dalla ragioneria generale dello Stato. Grazie Presidente anche della cortesia dell'inversione dell'ordine e ringrazio il sottosegretario Molteni della risposta che parzialmente mi soddisfa nel senso che ovviamente la questione parte da un caso specifico, quello del comune di Teglio Veneto, appunto in cui tutte le dipendenti di un ufficio si sono rifiutate di fare il tampone nel weekend, facendo venire a mancare l'intero servizio nella giornata del lunedì. Credo e immagino che questa situazione possa essere accapitata anche in altri comuni, quindi il problema che io pongo è dal punto di vista del sindaco che deve comunque garantire un servizio essenziale e nei comuni più piccoli come il caso di Teglio Veneto questo diventa difficile attraverso una riorganizzazione o riassegnazione delle funzioni, perché i dipendenti come sapete sono pochi e hanno già il loro bel da fare. Ho visto le linee guide del DPCM di ieri, appunto si autorizza in via d'urgenza la riorganizzazione interna o la mobilità interna, che in questo caso per esempio non è possibile, o le convenzioni con i comuni limitrofi come suggerito anche della Prefettura. Si tratta però di convenzioni onerose, quindi io ho capito, poi mi riservo di leggere con attenzione la risposta, che il fondo Covid non è utilizzabile perché deve essere utilizzato per garantire gli equilibri di bilancio. Nel caso in cui però queste convenzioni risultassero onerose è evidente che a causa della pandemia i costi di funzionamento del Comune aumentano. Io quindi ho posto questa questione, mi pare di capire che la valutazione sia che eventuali norme devono essere specificatamente derogatorie o comunque aggiuntive rispetto a quelle vigenti per consentire questo tipo di spesa. Rimetto a lei al Ministero la valutazione rispetto a questa situazione in cui convenzioni onerose aumenterebbero i costi del Comune e il Sindaco non ha altre alternative per riuscire a garantire i servizi essenziali. Quindi forse suggerisco la valutazione di una modifica delle norme di funzionamento del fondo Covid. La ringrazio. Grazie a lei. Ora procediamo con l'interrogazione del collega Maggi. Prego. Grazie Presidente. Grazie alla documentazione del progetto di giornalismo collaborativo Lighthouse Report è emersa la prassi di questi respingimenti molto violenti eh di richiedenti asilo afghani e pakistani ad opera di uomini dal volto coperto alle frontiere dell'Unione Europea tra Croazia e Bosnia. Successivamente è stato accertato che questi eserciti ombra cioè di persone camuffate in realtà sono composti da membri delle forze dell'ordine. La stessa cosa è accaduta anche in Romania e in Grecia. Ora nel corso del duemilaventi il nostro paese ha effettuato mille oltre mille e trecento riammissioni attive in Slovenia in attuazione in base a quello che ci ha riferito il governo dell'accordo bilaterale sulla riammissione delle persone alla frontiera accordo del millenovecentonovantasei. Il Tribunale di Roma con ordinanza del gennaio duemilaventuno ha censurato l'illegittimità di questa prassi di riammissioni cosiddette informali perché secondo il Tribunale di Roma eh le autorità italiane non possono ignorare il fatto che le persone poi riammesse in Slovenia vengono successivamente riammesse eh in Croazia e qui dopo inaudite violenze eh verso la Serbia o la Bosnia. Eh c'è un successivo accordo e concludo eh sottoscritto il quindici luglio scorso ehm tra il nostro governo eh e e il governo eh sloveno per riprendere il pattugliamento dei confini. Ora chiediamo al governo eh quali iniziative intenda adottare perché nessuna misura di riammissione possa essere eh eseguita nei confronti di chi manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale e perché in ogni caso non vi siano riammissioni informali cioè senza che venga emesso un provvedimento eh chiaro e quindi impugnabile perché eh come appurato dal Tribunale di Roma nel nell'ultimo anno e mezzo non è stato così. Grazie. Sottosegretario. Sì Presidente, due temi, il tema delle riammissioni informali, il tema del pattugliamento congiunto sul confine sloveno della rotta balcanica. Facendo riferimento alla pressione migratoria esistente sul confine italo-sloveno, l'interrogante richiama l'attenzione sul dispositivo di pattugliamento italo-sloveno operante sul confine e sulle riammissioni anche con riferimento a una decisione cautelare del Tribunale di Roma del gennaio di quest'anno. Con riguardo a quest'ultima pronuncia rammento che il Tribunale di Roma aveva ritenuto illegittima la riammissione informale in Slovenia di un cittadino pakistano. Tuttavia lo scorso ventisette aprile a seguito di gravame avanzato dal Ministero dell'Interno italiano. Il Tribunale, sempre di Roma, ha riformato la propria pronuncia in senso favorevole all'amministrazione, ritenendo che nel caso specifico fosse mancante la prova che il cittadino pakistano avesse personalmente subito quanto sostenuto in atti. A riguardo segnalo che l'accordo bilaterale italo-sloveno, sottoscritto nel 1996, consente di procedere con modalità semplificata alla riammissione alla frontiera degli stranieri rintracciati in posizione irregolare all'atto dell'attraversamento del confine italo-sloveno. Tale strumento convenzionale opera in parallelo al regolamento di Dublino e disciplina le forme di collaborazione bilaterale solo nei casi di riammissione dei migranti rintracciati immediatamente a ridosso della linea confinaria, secondo i presupposti spaziali e temporali indicati dall'accordo bilaterale. Mi permetto di aggiungere che l'accordo bilaterale Italia-Slovenia è identico all'accordo bilaterale Italia-Francia dall'altro lato del confine. Desido ad altresì porre in luce che tali procedure di riammissione tutelano le categorie di stranieri vulnerabili o esposti a particolare pericolo e sono quindi inapplicabili a diverse categorie di soggetti, e cioè ai migranti ai quali sia stata riconosciuta una qualsiasi forma di protezione internazionale, ai minori e alle persone che presentano malattie agli stranieri registrati nel sistema Eurodac, quello delle pronte. Va anche chiarito che a tutti gli stranieri vengono fornite con l'ausilio di mediatori culturali e linguistici, nonché mediante la consegna di apposito pusco, l'informazione sulle modalità con cui formulare istanze di protezione internazionale, la quale ove presentata non dà luogo ovviamente alla riammissione, in questo caso ovviamente quella informale. Quanto ai pattugliamenti congiunti richiamo l'accordo bilaterale di cooperazione sottoscritto a Lubiana il 27 agosto 2007. Seguito dalla sottoscrizione il 25 giugno 2019 del protocollo di attuazione del pattugliamento misto al confine italo-sloveno e informa che tale attività congiunta, sospesa il 12 marzo 2020 a causa della pandemia, è ripresa a far data dal 30 luglio scorso, a seguito della sottoscrizione di un apposito accordo siglato dai direttori delle polizie di frontiera italiana e slovenia per un numero complessivo di 10 servizi messili, di cui 6 nella provincia di Copper e 2 nella provincia di Trieste, nonché uno nella provincia di Gorizia e uno in quella di Nova Gorica. In merito alle iniziative del Governo, volte al controllo delle frontiere in questione, anche la luce della gestione dei profughi in fuga dall'Afghanistan, ricordo che il Ministero dell'Interno lo scorso 20 settembre ha incontrato, il Ministro dell'Interno ha incontrato il Vice Presidente della Commissione Europea Schinas, rappresentando al suo interlocutore l'urgenza di un incontro tra i Paesi membri interessati, coordinato dalla Commissione Europea, per condividere una linea comune di azione sulla gestione dei flussi migratori via terra e delle richieste di esilio nei Paesi di primo ingresso della UE. Prego, deputato Magri. Grazie Presidente, io ringrazio il Sottosegretario e il Governo, però devo dire che sulle due questioni poste il Governo continua a non rispondere. Le questioni sono, abbiamo certezza e il Governo è in grado di dare la certezza al Parlamento che le riammissioni non vengano eseguite nei confronti di persone che richiedono protezione internazionale. Il Sottosegretario risponde che non vengono eseguite rispetto a vulnerabili e altre categorie e a chi è in possesso di un titolo di protezione, e ci mancherebbe altro. Ma il richiedente, nel momento in cui richiede, non è in una condizione di irregolarità in base alla nostra legge, perché evidentemente lui fa una richiesta, la richiesta va esaminata e solo all'esito della richiesta diventa irregolare. Seconda questione, la riammissione informale. Se si continua ad intendere per riammissione informale che non viene emesso un provvedimento motivato che viene dato in mano alla persona, è un atto illegittimo. L'accordo bilaterale del 96, il Sottosegretario sostiene che agisce in modo complementare rispetto a Dublino, se attuato nei termini che noi paventiamo vengano confermati, cioè nei confronti dei richiedenti protezione e senza l'emissione di un atto, è in contrasto con il regolamento di Dublino, perché il regolamento di Dublino è volto proprio ad evitare che vi sia il rimpallo attraverso le persone, attraverso le frontiere di persone che richiedono. Infine, da un punto di vista prettamente politico, devo dire che da una parte abbiamo una comunità internazionale che si commuove per quello che accade in Afghanistan, dall'altro abbiamo dei paesi che sistematicamente, anche in violazione delle proprie norme, oltre che del diritto europeo e comunitario, respingono le persone con una prassi che è quella dei respingimenti a catena, cioè il governo italiano sa benissimo che la persona respinta attraverso il confine fra Italia e Slovenia, nel giro di poche ore sarà respinta attraverso quello tra Slovenia e Croazia e poi attraverso quello tra Croazia e Bosnia o Croazia e Serbia. Quindi, nell'arco di 24 ore, una persona che ha chiesto protezione alle autorità italiane si ritrova fuori dall'Unione Europea. Questo è il collasso del sistema di asilo europeo ed è il collasso del diritto d'asilo nel nostro Paese. Grazie. Ora procediamo con le interrogazioni Berardini e Dettole. C'è il collega Berardini, prego. Grazie Presidente. Noi del gruppo Coraggio Italia abbiamo riuscito opportuno a depositare questa interrogazione poiché nella giornata di sabato 9 ottobre è stata segnata da scontri e tensioni con la polizia durante la manifestazione a Roma dei cosiddetti No Green Pass. Il sit-in era stato autorizzato dalla questura dalle 15 alle 19 ma si è ben presto trasformato in un corteo non autorizzato quando una parte dei manifestanti si è staccata tentando di entrare in via Veneto forzando il cordone delle forze dell'ordine e facendo irruzione nella sede della CGL a Roma facendone scempio. Alcune centinaia di persone si sono invece mobilitate per le vie del centro e hanno raggiunto Palazzo Chigi dove hanno trovato le forze di polizia che hanno contenuto i manifestanti e hanno esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La situazione è poi degenerata e un manipolo di Facino Rosi radunandosi sul piazzale di Porta Pinciana ha deciso di dare avvio a un corteo non autorizzato. Diciamo che evidentemente si è sottovalutata la portata di questa manifestazione e si è altresì sottovalutato il rischio di una degenerazione della stessa manifestazione che dopo la guerriglia di piazza ha provocato l'assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I al fine di liberare un fermato che si è reso protagonista degli scontri. In particolare adesso le regioni temono il rischio caos per il 15 ottobre quando scatterà l'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro, preoccupazione già emessa e sottoposta al governo e che sarà affrontato di nuovo il 13 ottobre in conferenza delle regioni. È necessario tuttavia incoraggiare la pratica del vaccino e non del tampone, impedendo che nuove manifestazioni degenerino in atti di aggressione e intimidazione, portando a termine la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Per queste ragioni chiediamo quali iniziative il Ministro interrogato intende adottare al fine di scongiurare nuovi episodi di violenza che scoraggiano la campagna di vaccinazione diretta a salvaguardare la salute dei cittadini. Grazie. Presidente, mi perdonerà il Presidente e anche il collega. Ovviamente anticipo subito dicendo che la risposta sarà generica e stringatissima per un motivo molto semplice. Tra un'ora interviene al question time il Ministro e quindi giustamente sarà il Ministro a dare una ricostruzione di tutto quanto è accaduto e poi ci sarà l'informativa settimana prossima. Però per correttezza do contezza di pochi fatti, di pochi elementi. Nel richiamare i disordini avvenuti a Roma, signor Presidente, gli onorevoli interroganti nel richiamare i disordini avvenuti a Roma lo scorso 9 novembre chiedono iniziative per prevenire nuovi episodi di violenza. In proposito è innanzitutto doveroso ribadire anche in questa sede la più ferma e iniziativa incondizionata condanna contro inammissibili manifestazioni di violenza verificatesi nella capitale, nonché la solidarietà nei confronti della CGL e degli operatori sanitari e delle forze di polizia sul campo. Per quanto riguarda i fatti accaduti in occasione dell'accennata manifestazione svoltasi a Roma, faccio rispettosamente presente che il Ministro all'interno svolgerà una specifica informativa in aula il prossimo 19 ottobre e che nella giornata di oggi risponderà sempre in aula a un question time che riguarda anche tali episodi. In questa sede informo che stamattina, pochi minuti fa, si è riunito, è terminato da pochi minuti, il Comitato nazionale per l'ordine della sicurezza pubblica per un punto di situazione aggiornato sullo stato della sicurezza e dell'ordine pubblico anche in vista del prossimo G20 previsto per la fine del mese. Inoltre allo scopo di scongiurare nuovi episodi di violenza in vista delle prossime manifestazioni contro l'introduzione del Green Pass, saranno sensibilizzate le autorità di pubblica sicurezza al fine della predisposizione di doni e misure a tutela di obiettivi sensibili con particolare riguardo ai siti istituzionali, alle sedi sindacali e altri potenziali target. Per quanto riguarda la campagna vaccinale di cui gli onorari interroganti fanno specie di riferimento, esiste uno stretto legame tra la progressione della campagna vaccinale, la ripresa in sicurezza delle attività economiche e l'auspicato e auspicabile da parte di tutti noi il ritorno del Paese alla normalità anche sotto profilo economico. In questo quadro è utile ricordare il contributo fin dall'inizio della pandemia offerto dalle forze di polizia e in particolare l'attività di controllo ad essere affidata volta a garantire il rispetto delle norme anti-covid. A riguardo preciso che nel solo mese di settembre sono state controllate 8,3 milioni di persone e quasi 195.000 esercizi commerciali e all'esito dei controlli sono state sanzionate più di 2.000 persone e circa 400 attività commerciali, il che evidenzia un alto livello di spontaneo osservanza legge da parte dei cittadini. Pertanto il Ministero dell'Interno, per la parte di sue competenze prefette delle forze di polizia, presteranno la massima attenzione a quelle iniziative che possono pregiudicare proprio quel circuito virtuoso che la campagna vaccinale ha innescato. Prego Dettore. Sì, ringrazio il Sottosegretario, comprendo che oggi c'è anche il question time in aula ma è pare evidente che tutti stiamo aspettando che il Ministro ci faccia capire quello che è avvenuto nel rispetto della reazione che hanno dovuto le forze dell'ordine mettere in campo di fronte a un attacco produttorio e non solo da condannare ma da evitare nelle prossime possibili occasioni, faccio presente che ora sta accadendo, è successo, è successo un ASD all'Arezzo, hanno un attacco informatico che con minacce anche agli operatori, un attacco informatico che ha bloccato i servizi della ASD fatto da Novax, cioè mi sembra che si stia alzando il livello e il Ministro penso che debba, io capisco il Sottosegretario che di fronte Ubi Maior è chiaro che aspetta la risposta forse anche lui come tutti noi, ma credo che il Ministro alzeremo tutti al question time, debba anche rispetto a quello che proponiamo qui in Commissione, la Commissione competente che ha un rapporto, darci risposte adeguate perché non smetteremo in alcun momento di sollecitare il Governo nei limiti del sindacato ispettivo ovviamente di intervenire. Credo che c'è anche l'altro episodio, quello molto grave del Policlinico Umberto I, anche quello molto grave e quindi è evidente che la campagna vaccinale va insieme anche all'attività di reazione, per questo spero, il Sottosegretario Moltene è sempre stato molto pretiso e puntuale nelle risposte, capisco oggi la questione, ma faccia presente che anche dalla Commissione viene la sollecitazione, aspetteremo la risposta, ma il Ministro deve adeguarsi, il Ministro deve adeguarsi alla situazione, la situazione è cambiata, il livello si è alzato, abbiamo già avuto informazioni che poteva peggiorare, abbiamo parlato di Forza Nuova, dello scioglimento, ma oltre a Forza Nuova ci sono anche altri gruppi che si stanno muovendo in questo senso, o lo faccia presente che viene anche dal gruppo di Coraggio Italia, o c'è una risposta adeguata, oppure non è adeguato il Ministro, poi non ci sono vie di mezzo da questo punto di vista, quindi noi come gruppo abbiamo presentato anche in Commissione, aspettiamo che venga anche qui in Commissione il Ministro come è normale, perché un Ministro passa pure dalle Commissioni poi competenti, non solo va in aula, alcuni Ministri non li vediamo proprio in queste Commissioni, con tutto il rispetto del Sottosegretario e del loro compito, ogni tanto se facessero un passaggio anche da noi non sarebbe, come dire, sarebbe il modo anche per avere un dibattito anche più ampio. Ripeto, o c'è una risposta adeguata e aspettiamo rapidamente, siamo ancora una forza di maggioranza, oppure riterevo che il Ministro non è adeguato al ruolo. Grazie. Proseguiamo con l'interrogazione Prisco Montaruli. Montaruli. Sottosegretario Molteni, solo qualche giorno fa a Torino si è svolta la più grande e grave anche rivolta da parte di soggetti già attenzionati alla magistratura contro le forze di polizia, in particolare nello stabile di Corso Regina 162 a Torino, è capitato che nel corso di una perquisizione nell'ambito di un'operazione antidroga, tre agenti siano stati feriti, aggrediti dai residenti, residenti che cercavano di proteggere la persona attenzionata proprio dalle forze dell'ordine. Ovviamente questo è inammissibile, ovviamente è inaccettabile che i nostri agenti vengano esposti a pericoli simili, visto che si è trattato in un episodio molto grave anche, nel particolare un agente ha rischiato di essere buttato fuori dal balcone, di cadere dal balcone spinto da un residente di questo stabile, si tratta di stabili con alloggi di proprietà privata di cui abbiamo chiesto più volte adeguati controlli. Quindi ci chiediamo che cosa sta facendo il Ministero dell'Interno per proteggere le nostre forze dell'ordine e garantire quindi contestualmente più sicurezza all'interno della città di Torino ma ovviamente su tutto il territorio nazionale. Grazie collega Montaruli, prego il sottosegretario. Sì, grazie Presidente. Gli onorevi interroganti, l'onore Montaruli si riferiscono a un'operazione di polizia prisco, a un'operazione di polizia condotta a Torino la notte dell'8 ottobre scorso. In tale frangente tre operatori della locale squadra mobile hanno identificato e tratto in arresto un giovane trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish. Il giovane arrestato, Sader Adif di cittadinanza italiana, risultava residente in uno stabile poco lontano dal luogo in cui era stato controllato. Veniva quindi condotto presso l'abitazione per procedere alla relativa perquisizione. Qui giunto l'arrestato iniziava a gridare invocando in arabo l'aiuto del fratello e avvertendo dalla presenza della polizia. Ciò ha determinato il sopraggiungere di altre persone le quali hanno aggredito gli agenti che hanno riportato lesioni. Il rapido intervento di equipaggio della squadra volante ha consentito di risolvere la situazione. Nel corso dell'aggressione gli agenti sono riusciti a riconoscere, bloccare e attribuire precise condotte penalmente rilevanti ai tre aggressori, che venivano pertanto tratti in arresto per resistenza violente e lesioni a pubblici ufficiali in concorso con ignoti e per rapina. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto dei tre affermati, ordinandone la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, la professionalità dimostrata dagli agenti e la loro preparazione hanno consentito di gestire una situazione particolarmente difficile e ciò ha dimostrazione della bontà dell'attività di selezione e di formazione delle forze di polizia, attività sulle quali l'attenzione del Dipartimento dell'APS è particolarmente vigile. Precisi inoltre che l'area cittadina in cui si è verificato l'episodio è oggetto da tempo di costante attività di controllo da parte delle forze dell'ordine. La relativa situazione è stata più volte all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed è altresì stata considerata ai fini dell'adozione delle iniziative previste nell'ambito dell'Accordo per la Sicurezza Integrata e lo Sviluppo della Città di Torino. Tale strumento prevede specifici controlli coordinati sulla legalità delle locazioni in collaborazione tra gli altri con l'Agenzia delle Entrate e anche l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale. In considerazione della gravità dell'episodio, verificatosi, la situazione è stata esaminata l'11 ottobre scorso in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per la pianificazione di mirate attività di controllo. In seguito a quanto concordato in tale sede, nella mattinata di ieri si è svolto un controllo straordinario interforze dell'intero stabile al fine di procedere all'identificazione dei residenti, nonché alla verifica di eventuali violazioni in materia di immigrazione clandestina e occupazioni arbitrarie ed immobili. Per l'occasione, a richiesta dell'autorità provinciale DPS, è stata disposta l'assegnazione di uno specifico contingente di rinforzo di 60 unità dei reparti inquadrati, a supporto del dispositivo di tutta dell'ordine della sicurezza pubblica pianificato dalla costura di Torino. In esito all'attività svolta sono state identificate 52 persone, di cui 20 con precedenti per reato contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre rinvenute modiche quantità di sostanze stupefacenti nelle cantine dell'edificio e sono in corso verifiche su allacci abusivi, alle forniture elettriche e eventuali carenze igienico-sanitarie, che saranno comunicate alle autorità competenti. Analoghe attività di controllo saranno ripetute in questa e altre zone della città segnalate per situazioni di degrado. Non c'è dubbio che i nostri agenti siano persone competenti, che fanno adeguatamente il loro lavoro e intervengano in maniera puntuale anche nelle situazioni di difficoltà, come quella che si è verificata. Mi dispiace però, sottosegretario Molteni, trovarla nelle vesti qua di difensore d'ufficio del ministro Lamorgese, perché evidentemente quello che è stato il controllo effettuato nell'alba, all'alba di ieri, è stato un controllo di reazione, non pianificato, perché non c'era nessuna attività di controllo pianificato sullo stabile di Corso Regina 162, così come in altri stabili dove si verificano gli stessi problemi, perché prima è venuta la perquisizione a seguito dell'arresto di un soggetto, poi c'è stata l'aggressione delle forze dell'ordine e poi siete andati, il ministero ha chiesto che ci fosse un'operazione, un blitz di controllo dello stabile. Quindi non c'è nessuna attività pianificata di controllo di quegli stabili e peraltro questa è la denuncia che facciamo da tempo su molti stabili presenti in quella zona, il borgo Aurora di Torino e non solo. Quindi esiste una lacuna profonda sia della gestione del ministero che si riversa ovviamente nel comitato di sicurezza, che al momento non ha preso adeguati provvedimenti per garantire la sicurezza di quegli stabili e neanche ha cercato di richiamare alla responsabilità i proprietari degli alloggi che ospitano persone di cui viene anche il dubbio ci siano oltre a queste persone appunto che occupano abusivamente. Quindi non c'è mai stato in realtà un controllo peraltro incrociato anche attraverso l'anagrafe che potesse individuare le proprietà, molti di quegli stabili sono senza tra l'altro amministratore di condominio, quindi diventa difficile trovare un referente e nonostante questo non vi è mai stato quindi un intervento mirato, studiato, pianificato che potesse garantire una situazione di sicurezza che è stata soltanto in relazione al blitz di ieri estemporanea e di reazione all'aggressione ingiusta che hanno subito i nostri agenti. Quindi da questo punto di vista il ministero dell'interno e si evince anche dalla sua risposta è fortemente carente, fortemente assente e purtroppo la situazione va peggiorando perché più non si svolgono i controlli più la situazione si inclinisce e porta ad episodi come quello che purtroppo abbiamo assistito, a cui abbiamo assistito l'altro giorno. La ringrazio, dichiaro concluse così le interrogazioni alla risposta immediata e ora abbiamo l'ufficio di presidenza.